Ciao a tutti benvenuti 90 comics 2020 quest'anno purtroppo siamo chiusi per cause di forza maggiore siamo chiusi ma siamo online come tante altre manifestazioni si sono buttate sul digitale sul virtuale purtroppo a me manca moltissimo la mia area che era l'area comics e anzi l'area games che curavo col mio angolino nintendo di videogiochi attuali ma anche retro e il torneo di fifa e tutti tutti i negozietti che vendevano cose del passato però non tutto il male viene per nuocere perché dopo due anni che cercavo di averlo con me o di averlo presente in manifestazione è con noi andrea adressano che è un noventano è un di noventa vicentino ma a un certo punto ha deciso di andare a bologna a studiare e ci siamo trovati ci troviamo anche nei forum e guarda caso è presidente di ivi pro o ivi pro è giusto che è una un'associazione di bologna che si occupa di videogiochi e in modo molto particolare e beh dovresti spiegarci l'associazione è nata nel 2016 e l'obiettivo è quello di agevolare lo sviluppo di videogiochi però ambientati in italia o legati alla cultura italiana quindi l'idea era quella di aiutare di supportare quegli sviluppatori che fanno videogiochi ambientati da noi il caso più celebre assassin's creed quello è un grande blockbuster però ci sono un sacco di studi più piccoli di sviluppatori indipendenti che sempre di più si affacciano al mondo dei videogiochi e decidono di raccontare anche il nostro paese il che non vuol dire fare giochi educativi Assassin's Creed non è un gioco educativo però anche vero che si ambienta nel rinascimento italiano quindi giocando ad Assassin's Creed tu esplori Venezia esplori Firenze esplori Monteriggioni San Gimignano quindi unire un po la fiction al patrimonio che noi abbiamo perché noi abbiamo un patrimonio in italia di storie di luoghi di personaggi notevole e quindi perché non utilizzarlo anche nei videogiochi come di fatto anche il cinema fa il cinema ovviamente spesso si si ambienta sul territorio lo possono fare anche video quindi ecco noi facciamo un po questo lavoro di supporto anche di ricerca perché cerchiamo di trovare in giro per l'Italia quei luoghi che abbiano un potenziale per diventare scenario di videogiochi per cui stiamo mappando l'Italia regione per regione abbiamo già un dialogo attivo con 17 regioni mancano in realtà il Veneto l'Abruzza e il Molise però vabbè io spero poi che in realtà il dialogo si apre anche con il Veneto perché in Veneto tra l'altro ci sono un sacco di location incredibili per cui ecco come associazione cerchiamo un po di fare questo quindi facciamo ricerca facciamo eventi di approfondimento facciamo corsi su questo tema videogiochi per il territorio quindi non conosciamo fra l'altro una cosa che hai detto adesso non conosciamo completamente il territorio andiamo in cerca addirittura di nuovi di nuovi location sì ma manca ma anche ma anche 90 nel senso penso anche a Villa Barbarico ci sono un sacco di location che hanno una storia alle spalle che volendo lavorarci appunto tra storia e fiction potesse davvero crearci delle narrazioni interessanti e diventa anche promozione per il territorio perché in effetti Assassin's Creed ha avuto un impatto sul territorio di monte regioni ha avuto un aumento di turismo dovuto al gioco e vabbè Assassin's Creed ripeto è un blockbuster non è un piccolo gioco però che anche dei giochi indipendenti possano raccontare i borghi italiani paesi o comunque le nostre storie poi questo porta un ritorno sul territorio potenzialmente quindi l'obiettivo anche un po quello e ivi pro è anche un sito soprattutto chi vuole conoscere un portale e l'ho visitato diverse volte in questi giorni un po meglio perché ho visto che arrivavi e c'è anche una sezione ovviamente dedicata agli sviluppatori ai game designer chiamiamoli così e ho notato e chi visita il sito potrà notarlo questa sezione questa pagina di corsi di formativi per game designer allora visto che Radio 90 sarebbe un mio sogno anche affiancarmi a questi piccoli sviluppatori che in erba che vorrebbero che vorrebbero programmare di cosa si parla in questi in questi corsi allora noi abbiamo organizzato l'anno scorso un primo corso di game design per il territorio che è declinato in chiave di sensibilizzazione per il territorio applicare il game design ai territori quindi non stare un piccolo corso che vorremmo anche ripetere in realtà quindi per chi si affaccia a questo mondo può essere anche interessante e anche introduttivo diciamo fruire di questi corsi c'è da dire che quello che io consiglio a chi volesse buttarsi in questo campo è di diciamo iscriversi a delle scuole che tra l'altro stanno stanno spuntando in italia un po' quella anche alcune di qualità ce ne sono a milano ce n'è una molto buona padova l'evento horizon c'è a digital brossa a milano ecco chi vuole fare videogiochi legati non solo ai titoli videogiochi in generale e quello che gli consiglio di fare è di iscriversi a queste scuole, sono scuole che appunto in cui uno può specializzarsi sullo sviluppo tecnico, quindi sulla parte tecnica ma anche sul game design appunto, sulla parte artistica, quindi di non fare un videogioco come sai richiede tantissime competenze non c'è solo lo sviluppatore una volta c'era una persona adesso ci sono degli studi con due persone diciamo che in un videogioco normalmente c'è un team complesso che ha il tecnico tra virgolette, c'è l'artista c'è lo scrittore, quindi ecco queste scuole per uno interessato al tema secondo me sono importanti e giungo una cosa giusto al volo, quello che consiglio al di là di queste scuole è anche farsi una cultura, nel senso che far, soprattutto se devi fare il game designer o l'artista, avere anche una cultura generale sulla storia sull'architettura, sulla storia dell'arte o sulla scrittura vera e propria non lo disdegnerei, nel senso che lo trovo abbastanza importante da coltivare accanto al discorso come dicevi prima, cerchiamo nuovi territori nuovi posti proprio per per dare novità anche all'eventuale videogioco in sviluppo ascolta, leggo qua le domande ecco a proposito di questi scuole che dici voi fate la vostra parte legata a Ivy Pro ovviamente, ma stanno nascendo scuole, ci sono già scuole a chi, a un giovane ma anche a un giovane che vuole entrare nel mondo del videogioco, una volta era il nerd ovviamente anche adesso ma adesso ha la sua dignità c'è la sua scuola c'è tutto hanno la loro dignità anche i nerd esatto, bisogna però il fatto che c'è una scuola significa che vi è andata una dimensione molto più importante sicuramente ci saranno dei libri non solo cassettine o dischetti si studia si fanno chi vuole partire e chi vuole inserirsi soprattutto nel mondo dei videogiochi cosa allora c'è a dire al di là del discorso scolastico che è necessario cioè non è che può buttarsi uno può essere anche autodidatta esistono questi casi ma diciamo che normalmente bisogna studiare il cosiddetto genio però diciamo che normalmente sarebbe importante appunto studiare poi c'è il discorso invece più professionale nel senso che l'Italia è un paese che ha un'industria ancora piccola però stiamo crescendo nel senso che non siamo ancora a livello dei paesi nord europei però abbiamo comunque una crescita di anno in anno anche degli studi quindi quello che può essere anche utile eventualmente è mettersi in contatto con questi studi di sviluppo magari proporre dei tirocini o comunque conoscerli chiacchierare con loro capire di cosa c'è bisogno per fare videogiochi quindi c'è un discorso di confronto con chi li fa e anche di studio e poi avere pazienza perché appunto se uno vuole rimanere in Italia a fare videogiochi deve avere molta pazienza perché il nostro paese è ancora un punto dicevo un po' indietro altrimenti ci si è sempre fatto di poter andare fuori cosa che non è che io consiglio andare fuori proprio che andando fuori nel nord Europa magari hai più studi di sviluppo e più occasioni anche chi è uscito adesso ricordiamo non per nominarlo in ogni occasione il caso del Soliani che ha dato in Ubisoft è uscito è riuscito a entrare addirittura in Nintendo siamo all'apice sono dei casi fortunati diciamo che finì finito poi dirigere Mario più Rabbits per cui non capita sempre perché c'è anche adesso non mi ricordo il nome che aveva scritto il libro Andrea Babich Andrea Babich che ha curato la sceneggiatura del gioco fra l'altro e altri che erano abbiamo conosciuto anche noi nel forum quindi o ci siamo anche conosciuti di persona ascolta allora andiamo nel concreto ok Ivy Pro fa da presupposto tutto questo ha raggiunto dei risultati perché ci sono dei videogiochi come dicevi Assassin's Creed ma anche Final Fantasy il 15 si è ambientato a Venezia cioè a Venezia si è ispirato a Venezia e dopo loro ci mettono anche perché magari chi non c'è stato infatti non c'è solo il fatto di ambientare un gioco in un luogo specifico anche tra l'ispirazione e gli italiani che è tratto i giapponesi hanno un certo amore per Venezia per Pisa sulla Torre di Pisa ecco una cosa carina che abbiamo scoperto facendo ricerca è che la Torre di Pisa ha in tantissimi videogiochi perché i giapponesi amano la Torre di Pisa non chiedermi perché ha un suo fascino a volte però la mettono i mescoloni dove mettono la Torre di Pisa a Venezia però per dire che è vero c'è anche l'ispirazione italiana non c'è solo l'ambientazione italiana e gli stranieri ci hanno usato abbastanza nel senso che l'Italia su una nostra ricerca ci sono più di 200 giochi ambientati in Italia alcuni italiani la maggior parte però stranieri e ovviamente quegli stranieri seguono la tradizionale diciamo rotta turistica quindi vai da Venezia Firenze Roma i sassi di Matera quelli non c'hanno videogiochi anche se c'è uno studio c'è uno studio della Basilicata che sta lavorando a un'opera VR dedicata a Matera quindi c'è un movimento anche sul fronte ma Ivy Pro cosa ha avuto già dei si ha fatto qualcosa abbiamo collaborato con degli sviluppatori italiani finora solo italiani perché comunque partiamo siamo ancora piccoli come associazione quindi abbiamo collaborato con un gioco che si ambienta in Romagna a San Leo The End of Glory che è un'avventura grafica tipo Monchiala che in realtà è un investigativo per cui l'avventura inizia a Miami e poi l'investigatore finisce in Romagna e a San Leo questo bellissimo Borussia vi capita fattici un giro perché è meraviglioso è su un sperone di roccia e niente loro erano romani questi sviluppatori ci hanno chiesto di aiutarli sul fronte dei contatti con il comune perché poi abbiamo fatto da mediatori con il comune di San Leo insieme anche alle Emilia Romagna Fin Commission e hanno avuto il patrocino del comune quindi un supporto anche del comune anche per riprodurre i luoghi e così via quindi abbiamo dato una mano a loro ora stiamo lavorando da vicino con uno sviluppatore bolognese che sta realizzando un gioco che si ambienta a Curon in Alto Adige non so se lo conoscete dove c'è il campanile sommerso che spunta dal lago si 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 e niente stiamo lavorando con loro lì più da vicino perché in quel caso stiamo facendo anche ricerca per loro cioè loro sono sviluppatori lato più tecnico noi facciamo tutta la parte di scrittura e ricerca tutta la ricerca narrativa perché stiamo raccontando il borgo come era prima dell'allagamento quindi dato un supporto si anche di ricerca di ricerca dettagliato storico si perché magari uno studio preciso non ha dei diciamo dei ricercatori al proprio interno dice guarda io affido a voi la parte di ricerca quindi in quel caso stiamo dando una mano su questo fronte e il gioco esce a dicembre e poi ci sono altre cose in esce anche dal lato dal lato comuni regioni quindi trovate anche delle sovvenzioni a volte allora cerchiamo comunque di mettere in contatto con i comuni con le regioni cioè dire che purtroppo al momento non ci sono ancora tantissimi fondi regionali per i videogiochi si stanno avendo qualcosa perché recentemente la settimana scorsa ho visto la Puglia ha lanciato un bando per fare giochi legati a la Sardegna da poco ha lanciato un bando per altri giochi legati ad Alghero noi stessi abbiamo fatto da due anni fa da consulenti per un bando pubblico del comune di Bologna per fare un gioco legato alla città che poi è uscito su iOS Android si chiama Wunderbo quindi aumentano anche i finanziamenti pubblici mancano ancora dei fondi strutturati come quelli per il cinema però ecco cerchiamo anche noi come i Vipro di beccare la domanda dell'offerta fare in modo sempre di più magari le regioni investano perché investire sui videogiochi è un po' come investire sul cinema ha un ritorno appunto promozionale ma anche un ritorno lavorativo perché tu investi su professionalità quindi l'obiettivo è anche un po' questo e turistico magari si turistico infatti i Vipro nasce un po' da questi i Vipro nasce da Assassin's Creed osservando il caso Assassin's Creed ma perché non fare più spesso questo tipo di giochi che poi hanno un ritorno sul territorio quindi che regioni mancano che le richiediamo l'occasione per il Veneto il Veneto il Molise e l'Abruzzo il Molise e la tre regioni allora sì 17 hai detto sì quindi sono 17 in realtà abbiamo un dialogo aperto con tutte e poi ogni regione ovviamente ogni regione ha i suoi tempi sono regioni molto più tipo la Sardegna per esempio sui fronti ai videogiochi è molto lanciata è molto sensibile altre sono un po' più a rilento lì ogni regione poi ha le sue strutture però comunque un dialogo aperto c'è con quasi tutte tranne queste qui ma contiamo di di chiudere il cerchio speriamo che il Veneto non sia l'ultimo ma poi il Veneto ci terrei essendo io d'origine Veneto per cui vediamo ma come si svolge la cosa chiedete allora noi abbiamo collaborato e non vi rispondono oppure no il Veneto è stato molto carino perché noi collaboriamo con le film commission regionali che sono istituzioni pararegionali che supportano l'audiovisivo sul territorio cioè se viene Spielberg a fare un film a Milano la film commission Lombardia gli lo aiuta con i permessi per chiudere le strade eccetera eccetera molto sinteticamente ecco il Veneto aveva un problema fino a un paio d'anni fa che non c'era una film commission regionale c'era una per provincia e questa frammentarietà non aiutava non aiuta dall'anno scorso c'era una film commission regionale per cui adesso noi contiamo di rimetterci in contatto dopo c'è stato questo problema anche per creare un dialogo maggiore con il Veneto e cominciare a studiare di più la regione va bene allora chiudiamo il discorso i Vipro e chiudiamo quasi l'intervista però prima di Vipro tu sei con un archivio videoludico sì mi occupo quando non lavoro a Vipro lavoro a questo progetto che a Bologna si chiama appunto archivio videoludico è un archivio che è all'interno della Cineteca di Bologna fondamentalmente è un luogo che è dedicato che si dedica alla conservazione del videogioco per cui tu immagina più che un museo immagina una biblioteca del videogioco dove tu puoi venire gratuitamente perché vuoi giocare a quel gioco X che ti interessa se è che ti interessi per una passione specifica se è che tu debba fare una ricerca perché esistono anche studenti che devono studiare i videogiochi anche se a volte sembra strano dirlo ma il videogioco viene studiato o anche uno sviluppatore che deve giocare a dei giochi per una sua completezza quindi ecco tu vieni lì adesso purtroppo con il covid siamo chiusi e apriamo solo per i ricercatori però normalmente è uno spazio aperto dal lunedì anzi dal martedì al sabato e tu puoi venire a giocare come faresti in una biblioteca cioè tu vieni lì invece di chiedere un libro chiedi un gioco sono delle salite di consultazione pronte all'uso quindi tu immagina una salita come questa con le varie console con tutte le console il paradiso per qualcuno uno può andare lì e ci chiede quindi c'è un catalogo online puoi vederlo da casa abbiamo circa quasi 6.000 giochi al momento e tu quindi ci chiedi il gioco X e lo giochi e siete sovvenzionati anche in questo caso in questo caso è un archivio che è dentro ad un ente che è la Cineteca di Bologna che è una fondazione è una fondazione che però ha come socio unico il comune di Bologna quindi ha finanziamenti pubblici finanziamenti privati quindi diciamo che l'archivio in sé essendo dentro all'ente vive insieme all'ente non è un oggetto separato quindi ecco diciamo che io mi occupo soprattutto di conservazione nasco come archivista di videogiochi che sembra strano dirlo quindi conservo i videogiochi però adesso da qualche anno quando non mi occupo di archivi mi occupo di libro 40 anni fa non si sarebbe mai pensato un archivista di videogiochi adesso invece diventa ma sì perché ci pensi perché noi hanno una storia hanno una storia di quasi 70 anni di vita cioè noi abbiamo le biblioteche per salvare i libri perché non salvare anche i giochi anche perché sono un come sai bene sono un oggetto che ha un impatto sociale e culturale molto forte va preservato altrimenti rimane a parte che si rischia di perdere un patrimonio oppure rischia di rimanere solo in mano i privati invece l'idea è quella di avere uno spazio pubblico gratuito dove uno possa gratuitamente e c'è chi arriva lì e si piazza lì tutto giorno con la scusa di giocare all'inizio sì poi abbiamo messo un regolamento un po' più restitivo per fare delle fasce orarie 15 minuti abbiamo due ore di gioco più una opzionale quindi però abbiamo degli utenti affezionati che vengono che praticamente non giocano più a casa vengono lì perché poi non arrivano anche le novità non arrivano solo cioè noi recuperiamo cose vecchie dovete essere aggiornati e quindi diciamo che alcuni affezionati giocano lì e che quale console vi manca o quale ci mancano un po' di cose di retro game vecchie perché ovviamente abbiamo circa 35 piattaforme di gioco al momento ma ad esempio ci manca il Jaguar ci manca il 3DO quindi anzi io invito sempre anche se qualcuno in soffitta delle cose vecchie che sta per buttare ed è accaduto che alcuni ci chiamassero per dire abbiamo un Commodore in soffitta con il suo monitor originale lo sta per buttare lo volete voi certo nel senso che qui lo salviamo lo mettiamo a disposizione quindi io dico sempre se qualcuno sta buttando cose non fatelo non buttate mai nulla che se non giochi se non anche riviste abbiamo anche tutto un fondo di riviste d'epoca quindi Zap The Games Machine quelle vecchie Game Power Console Mania che vengono tutte quante catalogate per cui se tu che ne so devi fare una ricerca su Monkey Island e tramite il catalogo trovi tutte le riviste che parlano di Monkey Island e puoi leggere le recensioni dell'epoca allora quando dovrò buttare via le mie ecco non buttare le vengo a prendere le soffitte però per il momento le tengo lì se vuoi conservale però piuttosto che buttarle sappi che esistono spazi come questo che si giusto ti mandiamo pure il corriere a prenderle quindi ve le porto così vengo lì due orette più una se vuoi venire a Bologna sei benvenuto va bene appuntamento ah giusto appuntamento per il 24 24 27 settembre per Ivi Pro Days Ivi Pro Days che è un evento dedicato al tema dei videogiochi per il territorio e abbiamo ospiti internazionali anche italiani che parlano di questo tema per cui avremo per esempio gli sviluppatori di This War of Mine che è un gioco che si è ispirato alla serie di Sarajevo per raccontare poi è un survival game di fatto che si ambienta in una città assediata avremo degli sviluppatori messicani che hanno realizzato un gioco che c'è anche su Switch se vuoi giocarlo si chiama Mulaca che si ispira che si ispira già giocato si ispira al folklore messicano quindi ci raccontranno un po' il loro lavoro di ricerca sulle tribù messicane molto bello e avremo poi anche degli accademici che ci parlano di città virtuali di come creare le città all'interno dei videogiochi poi cosa che avremo avremo parleremo di musei perché avremo ospiti gli sviluppatori che hanno fatto il gioco del Centre Pompidou di Parigi quest'anno il Centre Pompidou ha fatto un gioco creato alle collezioni del museo e ci racconteranno il progetto di questo gioco quindi ecco poi tra poco ci sarà quindi l'evento e sarà tutto online quest'anno quindi nel male il bene che potrà essere seguito da chiunque chiunque online il programma è disponibile sul sito con gli orali per cui Radio 90 darà questa intervista esce il 20 90 comics quindi siamo vicini e in quei giorni lì magari cercheremo di coprire il programma sarà già disponibile quindi ecco se uno vuole seguirlo online quello è comodo ecco il Covid ha fatto tanti danni ma c'è una cosa positiva che magari questi eventi ci è unito un po' riescono un po' ad essere più globali perché puoi vederli facilmente anche da casa va bene il tempo è quasi scaduto ti ringrazio per essere un giorno che è 90 altrimenti ti ho detto venivamo noi a Bologna perché quest'anno non potevamo non fare e ovviamente se l'anno prossimo ci sarà il 90 comics spero di sì la settima edizione mi voglio venire a vederlo perché ogni anno ci ho provato non è che non ci provassi ma in veste di speriamo ufficiale ma anche in veste di normale partecipante mi piacerebbe vederlo perché poi per un motivo o per l'altro appunto come dice prima non sono mai riuscito a venirci quest'anno ma il prossimo 2021 si spera che tutto torni alla normalità ecco giusto va bene lascio gli spettatori del 90 comics per quest'anno spettatori l'anno prossimo speriamo di no che siano vivi qui con noi in presenza alle prossime interviste e salutiamo Andrea grazie ci vediamo l'anno prossimo ciao ciao